Sul caso Papa la maggioranza sembra ricompattarsi dopo le parole di Bossi che frena sull'arresto del deputato della PDL. Le manette mai prima di un processo, dice il leader del Carroccio. Mercoledì vota la Camera, quasi certamente a scrutinio segreto. Da oggi si cominciano a sentire i primi effetti della manovra. Il via, i ticket sanitari su visite mediche, pronto soccorso e molte altre misure. Napolitano sollecita un nuovo confronto tra politica e parti sociali sulle proposte concrete per uscire dalla crisi. Il Tribunale di Torino dà ragione alla Fiat sull'accordo per lo stabilimento di Pomigliano, ma il giudice evidenzia anche il comportamento antisindacale dell'azienda nei confronti della FIOM, esclusa dalle rappresentanze sindacali. In Gran Bretagna nuovi guai per l'impero di Rupert Marduk. Indagato figlio James avrebbe tentato di coprire lo scandalo delle intercettazioni illegali. Il leader e l'agorista Millie Bend attacca e il gruppo del magnata australiano va smantellato perché concentra troppo in una sola persona. Buongiorno dal telegiornale della Sette, dunque deciso il destino di Alfonso Papa si valuterà e si deciderà nella giornata di mercoledì prossimo, quando arriverà il voto in aula, un voto in cui sembrava arrivare una maggioranza davvero spaccata con le parole molto dure di Umberto Bossi. A sentire invece che Umberto Bossi raccolto ieri sera, il leader del carroccio sembra più vicino alla linea, quella morbida indicata da Silvio Berlusconi. E dunque si capirà a questo punto tutta la Lega che cosa deciderà di fare sull'arresto almeno del deputato PDL coinvolto nell'inchiesta sulla P4. La maggioranza da ieri sera pare meno divisa sulla questione Papa. Umberto Bossi dalla festa del Redentore a Venezia ammorbidisce la sua posizione sul deputato PDL a tre giorni dal voto della Camera sulla richiesta d'arresto per il parlamentare che si è autosospeso dal gruppo PDL. Venerdì dopo il sì della Giunta per le autorizzazioni a procedere per la prima volta dopo quasi 30 anni, il senatore aveva parlato esplicitamente di galera per Alfonso Papa. Ieri sera ha corretto il tiro, riavvicinandosi alle posizioni di Berlusconi che aveva difeso il suo parlamentare lamentando un ritorno al clima giustizialista del 92. Vi prego di ricordare quel che avvene al tempo di Craxi. Allora cominciarono a dare in là, a lasciare andare in galera uno che non era stato condannato a mettere le manette e poi venne a fare un caos che non ha servito nessuno, tranne forse di pietra per fare carriera politica. A questo punto per la decisione sull'arresto bisogna aspettare più che mai il voto di mercoledì a Montecitorio, un voto che potrebbe essere a scrutinio segreto. Il carcere? La valutazione spetta all'aula sovrana, ha detto Papa. Sto conducendo una battaglia di verità e la condurrò nel processo per riavere l'onore come uomo magistrato politico e cittadino. Ho subito sette mesi di travaglio mediatico, attacchi e fango. Sto lavorando per accertare la verità. Comunque ieri la prima sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito la sua sospensione in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio di magistrato. Papa sotto inchiesta nell'indagine P4 con le accuse di favoreggiamento, concussione e spionaggio di atti coperti da segreto e poi rivelati a Luigi Bisignani, non percepirà lo stipendio come giudice, neppure nel caso in cui si dimettesse da Montecitorio. E dunque è proprio sul discorso e il destino di Alfonso Papa che si misurerà ancora una volta la tenuta dell'asse, quella con Trabossi e Berlusconi. Tutto questo all'indomani e al weekend che arriva dopo l'approvazione della manovra. È tornato in qualche modo su questo anche il Presidente della Repubblica Napolitano con soddisfazione, ma dice adesso occorre pensare alla crescita. E poi c'è in fronte quello sempre aperto delle opposizioni, uno scontro durissimo sui tagli previsti da questa manovra correttiva. Francesca Totini. Per il Presidente del Consiglio il cambio di rotta deciso da Bossi sul caso Papa è sicuramente una buona notizia che puntella in un passaggio difficile la coalizione. Berlusconi, dopo l'approvazione della manovra, cinque giorni intensi in cui il Premier è rimasto appartato e silenzioso, è intenzionato infatti a riprendere pienamente in mano l'attività di governo. Non a caso domani sera ad Arcore il Premier tornerà ad incontrare proprio Bossi in una di quelle cene del lunedì che hanno contrassegnato buona parte della legislatura. Certo, si parlerà della reazione dei mercati alla manovra, delle vicende giudiziarie che convolgono esponenti del PDL e della sostituzione di Angelino Alfano alla giustizia. Ma dopo l'uscita di Bossi di ieri sera, trapela un certo ottimismo da parte di Berlusconi. Con Umberto avrebbe confidato, possiamo intenderci. Chi intanto sollecita nuovamente le forze politiche ad un confronto costruttivo è il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato sottolinea come, dopo l'approvazione della maxi manovra, c'è necessità di garantire la crescita. In una lettera al Sole 24 Ore, dunque l'invito del Quirinale al confronto su proposte concrete. L'importante, scrive Napolitano, sarebbe che ciascun soggetto politico e sociale si esprimesse in questa fase, in termini puntuali, sul da farsi. E che così emergesse ogni possibile condivisione. Per ora emergono soprattutto dissensi sulla manovra. È stato varato un decreto classista, dice infatti il segretario del PD Bersani, che in un'intervista all'Unità dice che le misure adottate non ci metteranno al sicuro rispetto alle speculazioni dei mercati. Servono le elezioni, ripete il segretario democratico, o almeno un governo di transizione per la riforma elettorale. E a proposito di scenari, torna a farsi sentire Walter Veltroni. In un'intervista al Corriere della Sera, chiede a Berlusconi di farsi da parte, per lasciare spazio ad un governo istituzionale. E questa intervista che vediamo dall'agenzia sta già scatenando le reazioni della maggioranza. Ma andiamo a questa manovra, manovra effettiva già dalla giornata di oggi, se si parla di alcune novità che riguardano per esempio la spesa sanitaria, ma lì vedrete che le singole regioni decidono sull'applicazione o meno, ma poi il bollo sulle auto di lusso e tante altre cose ancora. Di cui ci parla Paolo Luzzi. No, no, non dico nulla. Da mezzanotte la manovra di bilancio, ratificata venerdì dal capo dello Stato, è divenuta legge. La sua approvazione è stata talmente rapida da spiazzare anche chi la deve applicare, come le regioni demandata la riscossione dei ticket da 10 e 25 euro, per ricette specialistiche e servizi ospedalieri in codice bianco. Diversi governatori si dicono contrari a questo nuovo balzello, che colpisce in special modo le fasce più deboli, e chiedono tempo per studiare soluzioni alternative da cui trarre le eventuali risorse. La rivolta delle regioni è guidata da Emilia Romagna e Toscana, che hanno già istruito i direttori sanitari dell'azienda sanitaria pubblica a sospendere l'operatività dei ticket. L'indicazione è per una pausa di riflessione di 15 giorni, che anche il Friuli Venezia Giulia si concederà, pur se è limitata ad una settimana. Questo non vuol dire che il super ticket non verrà pagato, ma solo che in questa fase le regioni si faranno direttamente carico dell'aggravio richiesto dallo Stato, usando fondi propri. Alimenta il fronte dei contrari alla Sardegna, dove i tempi di attuazione della manovra non sono stati però ancora stabiliti. Le Marche affidano ogni decisione al Consiglio di domani mattina. La questione sarà il primo punto in agenda anche della Polverini, governatore laziale, ma Lazio, come altre sei regioni, darà comunque immediatamente attuazione al provvedimento. In Trentino Alto Adige l'introduzione, direttamente a carico dei cittadini, riguarda al momento solo le prestazioni sui codici bianchi. Sanità parte alla manovra per il pareggio di bilancio attesa domani, soprattutto alla valutazione dei mercati. Il sì definitivo è arrivato nei tempi previsti e la buona prova offerta negli stress test europei per i nostri istituti di credito attuarizzano ad un moderato ottimismo. Ma dopo le fiammate speculative degli ultimi giorni, la prudenza resta ovviamente un obbligo. Tagli per tutti, abbiamo sentito, non per la casta, quella dei privilegiati. I costi della politica su cui nessuno ha messo mano, questa è una delle polemiche, una polemica che in queste ore viaggia su web, sta creando scompiglio e anche molta curiosità. C'è un precario di Montecitorio che fa numeri e cifre. Mila Catante. Il Parlamento ha approvato in tempi record una manovra correttiva dei conti pubblici, lacrime e sangue. Una vera stangata. Gli unici però ad esserne usciti indenni sembra che siano i politici. Insomma la casta impone sacrifici ai cittadini, ma non rinuncia neppure a mezzo privilegio. Così su internet monta la protesta, gridano forte la loro rabbia ai lettori di destra e di sinistra e assurge immediatamente a protagonista un Robin Hood del web. Si fa chiamare Spider Truman, dice di essere un precario di Montecitorio licenziato dopo 15 anni di onorato servizio in quel palazzo. Apre un profilo su Facebook che è già una dichiarazione di intenti, i segreti della casta di Montecitorio e promette di svelare ad uno ad uno tutti, ma proprio tutti i privilegi di cui godono a piene mani i deputati. E di rivelazioni Spider Truman ne ha fatte tante, dai viaggi gratis per parenti e amici grazie alle miglia accumulate per trasferte lavorative ai prezzi ridotti per l'acquisto di automobili. Tutti vantaggi di cui mai e poi mai potrebbe avvalersi un normale cittadino, tartassato dal fisco e strangolato dal mutuo per la casa. Ci va pesante l'anonimo precario e spazia dalle auto blu alle scorte per moglie e amanti ottenute grazie a minacce fasulle. Questa gola profonda di Montecitorio per vendicarsi spiffera tutto e i suoi contatti su Facebook li evitano, superando le 40.000 preferenze in pochi giorni. Spider Truman continua le sue rivelazioni come i finti furti denunciati dai deputati per poter ottenere nuovi computer portatili e via dicendo. Tutte affermazioni da verificare, ma quel che è certo è che il presunto precario della Camera sta spopolando, sfruttando una dilagante ondata di antipolitica. Restiamo invece alla politica. La settimana, quella che si apre di Silvio Berlusconi, sciolto il nodo della finanziaria, è una settimana ancora una volta molto giudiziaria. Tre udienze a Milano e soprattutto il rischio che per Berlusconi la settimana si chiuda con un nuovo rinvio a giudizio. Ascoltiamo Lorenzo Morelli. Appuntamento in tribunale a Milano. La settimana di Silvio Berlusconi si apre a Palazzo di Giustizia dove dovrà affrontare tre udienze in due giorni. Nell'ordine Rubi, Mills e Unipol. Si inizia domani mattina, prima Rubi e poi Mills. Ma Berlusconi interverrà solo alla seconda dove è imputato per concorso in corruzione in atti giudiziari. A Rubigate il Premier non sarà presente e non ci sarà neanche il difensore di Rubi e Gidio Verzini. Infatti proprio ieri la ragazza marocchina ha destituito dall'incarico il suo legale per tornare dall'avvocato Paola Boccardi. E con questo sono a quota 5 i cambi della difesa legale. Martedì sarà la volta di Unipol. Qui l'ipotesi di reato è la rivelazione del segreto di ufficio. Si tratta della vicenda relativa alla pubblicazione dell'intercettazione Fassino-Consorte dove il primo diceva al secondo «abbiamo una banca» pubblicata dal giornale il 31 dicembre 2005. In quell'occasione Fabrizio Favata aveva portato ad Arcore la registrazione della telefonata tra l'ex segretario dei DS e l'ex capo di Unipol. L'intercettazione fatta da un'azienda che aveva avuto l'appalto dalla procura era ancora coperta dal segreto istruttorio. Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per Silvio Berlusconi. Il giudice invece l'ha respinta e ha fissato l'udienza per martedì quando si pronuncerà sulle eccezioni preliminari presentati dagli avvocati del Presidente del Consiglio. Il magistrato ha già rinviato a giudizio Paolo Berlusconi in qualità di editore del giornale e condannato Favata a due anni e quattro mesi. Per questo la difesa del Premier ha chiesto al giudice di astenersi. Anche per questo caso, come per Rubi, i legali del Premier Ghedini e Longo hanno eccepito la competenza territoriale. Fatto successo ad Arcore, quindi competenza al Tribunale di Monza. Il pubblico ministero si è opposto a tutte le eccezioni. Se il giudice le respingerà, l'udienza martedì andrà avanti e in teoria per Berlusconi potrebbe arrivare un altro rinvio a giudizio. Sarebbe il quarto, senza contare Mediatrade, dove la decisione è fissata a ottobre. E chissà a questo punto che non abbia una nuova coda giudiziaria anche l'ultima verità di Patrizia D'Addario. La ricordate? L'escort delle notti a Palazzo Graziole con il Premier. Una nuova versione dice di essere stata costretta in qualche modo ad accusare Silvio Berlusconi. Potrebbe essere ascoltata dalla procura di Bari. Rossana Rosso. Patrizia D'Addario ritratta, parla di complotto contro il Premier Berlusconi e la procura di Bari apre un'inchiesta. L'intervista esclusiva pubblicata ieri su Libero finisce sul tavolo dei magistrati e presto la donna che in passato aveva rilasciato molte interviste sui festini a Palazzo Grazioli sarà ascoltata dall'autorità giudiziaria. Probabilmente racconterà la sua nuova versione dei fatti. Già parla di testimoni e prove della presunta macchinazione contro il Presidente del Consiglio. dice di essere stata usata dai nemici di Berlusconi. Ancora non è chiaro a chi si riferisca. Per il momento le accuse vanno al suo ormai ex avvocato Maria Pia Vigilante che, a suo dire, l'avrebbe costretta a raccontare certe cose prima fra tutte la presunta notte con il Presidente Berlusconi e a rendere pubbliche le sue registrazioni. Ma l'avvocato Vigilante non ci sta. Ieri ha diffuso una nota sottolineando che fu la D'Addario a voler rendere pubblica la vicenda e che lei si limitò ad assisterla. La D'Addario se la prende anche con il PM che l'ha interrogata all'epoca dei fatti. Il magistrato e il mio avvocato mi devono spiegare, afferma oggi, perché non mi dissero che era un mio diritto avvalermi della facoltà di non rispondere. La realtà è che la D'Addario non poteva non rispondere visto che era un semplice test e non era indagata. La D'Addario afferma anche che il Cavaliere non le ha mai dato soldi e per parte sua smentisce di essere mai stata una escort, circostanza che invece in passato aveva più volte confermato. La protagonista dello scandalo che ha messo in difficoltà Berlusconi torna dunque a far parlare di sé per la sua strana conversione, come la definisce oggi il Fatto Quotidiano, perché rinnega anni di accuse. L'ultima intervista della D'Addario scrive il fatto ricalca il canovaccio del complotto, più volte delineato da libero e panorama tra giornalismo, magistratura e politica, una tesi che finora non vede nessuna conferma sotto il profilo giudiziario. Insomma, la polemica è tutt'altro che conclusa. Non è concluso neanche il braccio di ferro tra Fiat e FIOM, l'ultimo capitolo sugintesa di Pomigliano. Andiamo a ascoltare Desida Dario. FIOM versus Fiat, uno a uno. Per il giudice del lavoro di Torino, l'accordo fatto a Pomigliano d'Arco tra l'azienda automobilistica e le principali sigle sindacali, con l'eccezione della FIOM, è perfettamente legittimo, ma il comportamento dell'ingotto è stato antisindacale. Dopo sette ore di dibattimento e sei ore di Camera di Consiglio, il giudice Ciocchetti ha riconosciuto la validità dell'accordo siglato lo scorso 29 dicembre, che fissa nuove regole di gestione dello stabilimento campano in tema di turni e organizzazione del lavoro. In pratica, Marchionne poteva trasferire in blocco i lavoratori in una società appositamente creata per produrre la nuova Panda, fabbrica Italia Pomigliano S.p.A., in cui l'ingotto ha investito 700 milioni di euro. L'accordo che scavalca il contratto nazionale dei metalmeccanici e Confindustria è stato firmato da Cisle, Will, Fismic e Uvgl con il dissenso della FIOM. Il ricorso è stato presentato il 18 aprile per contestare la costituzione della nuova società e l'impossibilità di svolgere attività sindacale. L'accordo avrebbe permesso infatti solo ai sindacati firmatari dell'intesa di avere una rappresentanza nella fabbrica. Ed è questa seconda parte del ricorso che è stata accolta dal giudice del lavoro di Torino. La FIOM ha il diritto di avere i propri rappresentanti nelle RSA. Rientreremo nelle fabbriche con il diritto e senza vincolo alcuno, ha commentato soddisfatto il segretario FIOM e Maurizio Landini. Secca la replica che arriva dal segretario generale della Cisle, Raffaele Bonanni. La FIOM è stata sconfitta, dice, perché aveva puntato tutto sull'illegittimità dell'accordo, cui ora si dovrà adeguare. C'è grande soddisfazione infatti tra le sigle che hanno sottoscritto l'accordo di Pomigliano. Il giudice ha riconosciuto che abbiamo fatto un accordo buono per salvare la prospettiva di uno stabilimento e difendere l'occupazione, spiega il segretario della UIL Angeletti. Della CGL arriva un no comment della Camusso. Della sentenza sono soddisfatti solo a metà i legali della FIAT. La seconda parte della sentenza è incomprensibile, dicono, perché contrasta con l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, che attribuisce il diritto di rappresentanza sindacale solo alle organizzazioni che hanno firmato il contratto. Per la FIAT ora dovranno essere valutate le conseguenze sul piano investimenti per Fabbrica Italia. Comunque si concluda, questa sarà un'estate da ricordare per Barack Obama, le prese con un rischio recessione davvero forte, trattative serrate, la necessità di decidere tagli, come distribuirli per mantenere e contenere il debito pubblico. Ma c'è anche un fronte internazionale e anche da quel punto di vista non c'è pace per il Presidente americano. Paola Mascioli. L'ultimo problema da risolvere per Barack Obama è entrato ieri pomeriggio alla Casa Bianca vestito con abiti tradizionali giallo e amaranto. Era il Dalai Lama, ormai solo la guida spirituale dei tibetani, non più il capo di un governo in esilio dal 59. Un incontro strettamente privato di cui non ci sono né foto né riprese televisive che comunque ha fatto andare su tutte le furie Pechino. Dopo la nota diffusa ieri dal Ministero degli Esteri che aveva definito un'ingerenza negli affari cinesi l'incontro tra Obama e il Dalai Lama, a Pechino oggi il Vice Ministro degli Esteri ha convocato l'incaricato d'affari americano per esprimere l'indignazione e la protesta della Cina per i 45 minuti di incontro che hanno avuto un impatto negativo sulle relazioni tra Pechino e Washington. In cui tre quarti d'ora i due Nobel per la pace hanno parlato, secondo il comunicato ufficiale della Casa Bianca, del mantenimento dell'identità culturale e linguistica del Tibet e della protezione dei diritti umani nella regione occupata dalla Cina nel 59. Ma a Pechino il Tibet è un argomento tabù e il Dalai Lama che continua a sostenere di non volere la secessione ma l'autonomia della regione da cui fuggì 52 anni fa è la spina nel fianco del regime. Un'altra grana per Barack Obama le prese con la più difficile delle crisi economiche del dopoguerra, col primo rischio della storia di default e con una battaglia con i repubblicani che già entrati in campagna elettorale gli negano il sostegno nel durissimo compito del taglio del debito pubblico. Ogni giorno che passa fa aumentare il deficit dello Stato ma l'opposizione non vuole andare incontro alle richieste del Presidente che vuole l'innalzamento del tetto del debito il taglio della spesa pubblica ma anche l'aumento delle tasse per i più ricchi. Ed è su questo argomento che i repubblicani fanno ostruzionismo la strada che porta al 2 agosto data ultima per arrivare ad un accordo per Obama è sempre più in salita. E davvero in salita anche l'estate di Rupert Murdoch andiamo nel Regno Unito lo scandalo intercettazioni illegali a questo punto si muove anche Scotland Yard lo fa nei confronti del figlio del bagnate australiano Regno Unito che si interroga anche sul conflitto di interessi nel senso di troppo potere nelle mani di una stessa persona e poi ci sono le nuove indiscrezioni i nuovi spiati da Jude Law a David Beckham passando per Paul McCartney sentiamo Carla Rumo L'informazione nelle mani di una sola persona il dibattito è anche in Gran Bretagna nello scandalo intercettazioni oggi è il giorno di Ed Miliband leader dell'opposizione britannica che dalle pagine del domenicale The Observer attacca Rupert Murdoch e reclama lo smantellamento del gruppo News International una simile concentrazione nelle mani di una sola persona è un fatto malsano e pericoloso che può condurre ad abusi di potere afferma il capo dei laburisti che invita a riflettere perché il 20% del mercato della stampa britannica è in mano al magnate australiano il News of the World è defunto ma al gruppo di Murdoch fanno ancora capo il Sun il Sunday Times e il Times oltre al 39% del canale satellitare B-Sky-B quel canale che Murdoch voleva acquisire al 100% fu proprio la mozione parlamentare di Milliban la scorsa settimana a bloccarne la scalata insomma sembra proprio che quel We Are Sorry scritto in calce sulle pagine dei quotidiani britannici non sia bastato a far dimenticare l'inchiesta in corso quelle 4.000 persone spiate dagli investigatori al soldo dei suoi giornali stanno facendo cadere ad uno ad uno i pezzi del suo impero dopo la Brooks e Colson ex direttori del tabloid Hinton ex amministratore delegato del gruppo ora tocca Scotland Yard prima sfiorata dai sospetti di collusione ora colpito in pieno dalla tempesta intercettazioni il suo capo Paul Stevenson avrebbe tentato di convincere il Guardian il giornale che per primo ha messo sotto accusa Mardock che la sua copertura del caso fosse esagerata e questo senza rivelare che l'ex vice direttore di News of the World fosse stato assunto come suo consulente ma non è tutto nel pantano è intrappolato anche Mardock Jr James è indagato per aver cercato di coprire lo scandalo e aver voluto la cancellazione di migliaia di mail provocando di fatto un max inquinamento delle prove e ancora dal pantano non riesce ad uscirne neanche il premier David Cameron che incontrò i vertici di News Corporation ben 26 volte in 15 mesi un po' troppe per poter provare la propria estraneità ai fatti adesso ci rilassiamo con il calcio intanto i verdetti della Coppa America verdetti a sorpresa perché Perù ed Uruguay sono le prime due semifinaliste gli occhi di tutti puntati sulle lacrime dell'Argentina padroni di casa colpito e condannato dai calci di rigore Luca Speciale Leo Messi che lascia il campo con il capochino dribbla la stampa in un silenzio che fa rumore quanto l'eliminazione della Selecione da una Coppa America organizzata e vinta solo a parole l'Uruguay di Tabarez si gode un altro miracolo sportivo un anno dopo il quarto posto mondiale i rigori sono una lotteria si sa ma arrivarci è stata la vera impresa in vantaggio dopo 5 minuti con Perez raggiunti al 17esimo del primo tempo da Higuain gli uruguayani hanno resistito sul pari giocando un tempo in 10 per l'espulsione dello stesso Perez garra che in uruguagio vuol dire grinta è l'aggettivo più usato oggi dai commentatori per accompagnare i titoli sull'impresa eroe della serata di Santa Fe è stato il portiere uruguayano della Lazio ora in partenza per il Galatasaray Fernando Muslera ironia della sorte lui nato proprio a Buenos Aires ha parato tutto fino al rigore decisivo neutralizzato a Tevez che per gli argentini è un simbolo tra i più amati il giocatore del popolo ma il primo vero grande sconfitto di un trofeo che all'Argentina manca dal 93 è Messi lui e la nazionale restano due mondi diversi e quello con Maradona pertanto un paragone ancora imperfetto a dimostrare una volta di più che nel calcio da soli non si vince e che il Barcellona è un'orchestra perfetta non una semplice lista di giocatori dai piedi buoni il CT Sergio Batista non si dimette il suo lavoro è cominciato solo sei mesi fa e l'obiettivo è il mondiale brasiliano del 2014 e nel frattempo questa eliminazione comunque accelera i tempi del calcio mercato naturalmente i tempi relativi ai trattativi che riguardano alcuni degli assi della nazionale sudamericana Nicolò di tiene Argentina fuori dalla Coppa America un dramma per l'intero paese sudamericano meno per i club europei che adesso potranno affrettare le operazioni di mercato con molti dei gioielli della squadra allenata da Battista il primo della fila è il Kun Aguero che sembra ormai destinato al Manchester City 45 milioni di euro offerti all'Atletico Madrid Roberto Mancini ha indicato nel suocero di Maradona la pedina fondamentale di un tridente d'attacco con Balotelli e Geco certo l'addio al City di Carlos Tevez su di lui c'è anche il Corinthians che ha alzato l'offerta precedente a quasi 45 milioni di euro l'Inter invece prima di pensare concretamente a Tevez deve fare cassa vendendo Pandev o Snyder anche se l'olandese ha dichiarato di voler restare a Milano i tifosi lo reclamano a gran voce per il centrocampo si pensa sempre a Banega del Valencia o a Casemiro del San Paolo sul quale c'è l'interesse anche di Roma e Milan martedì potrebbe essere il giorno di Giuseppe Rossi alla Juventus il procuratore del giocatore sarà in Spagna per incontrare i dirigenti del Villareal i 25 milioni di euro più una serie di bonus sembrano aver convinto il club iberico poi concluso l'operazione Rossi i bianconeri si tufferanno su Vidal del Bayern Leverkusen ma sul Cileno c'è anche il Bayern di Monaco e su un esterno d'attacco oltre a Vucinic della Roma in queste ultime ore salgono le quotazioni di Valencia del Manchester United in attesa di capire il futuro di Ganso il Milan sta chiudendo con la Fiorentina il passaggio di Montolivo il centrocampista della Nazionale fischiato dai tifosi viola è sempre più un separato in casa sgarbo del Barcellona alla Roma Bojan dato da tempo come giallorosso è stato convocato per il ritiro precampionato del Barça i campioni d'Europa in carica prima di cedere il ventenne spagnolo vogliono essere certi dell'acquisto dall'udinese di Sanchez a proposito di momenti neri anche scorrendo i 249 i Gran Premi che Valentino Rossi ha corso nella sua carriera non si trova un momento così difficile non a prova del moto mondiale in Germania tutti i dubbi nel servizio di Daniele ha combinato l'ultima chance per fare qualcosa di meglio partendo dalla penultima posizione in qualifica è sperare nella pioggia data probabile in gara mentre Valentino e i tecnici della Ducati continuano a girare intorno alla domanda cruciale perché la Ducati è sempre più lenta Rossi ormai a stento riesce a nascondere rabbia e la frustrazione vedendo tutti gli altri davanti andare come saette forse anche a questo stato d'animo oltre ai problemi avuti da tutti in curva con le gomme davanti che non scaldano è dovuta la spettacolare caduta in prova di venerdì Casey Stoner lontano a quasi un secondo e mezzo e alla sesta pole in nove gare alle sue spalle Dani Pedrosa e Orge Lorenzo a dieci millesimi dal campione del mondo Marco Simoncelli in seconda fila insieme a Ben Spice e Andrea Dovizioso è difficile per il pluricampione del mondo digerire un fallimento simile che il pesarese divide a metà con la casa di Borgo Panigale la scelta di cambiare moto con un nuovo telaio fortemente voluta e studiata dal pilota si è rivelata sbagliata lui stesso ammette di non riuscire a percorrere le traiettorie giuste allora spunta l'ipotesi di tornare alla vecchia GP11 la stessa per intenderci con cui Nicky Hayden ha conquistato l'ottavo posto in griglia oggi il dottore si dice pronto a tentare tutte le cure per trovare il feeling con la Ducati e pronto a rinnovare l'amore per la rossa anche in futuro i tifosi sperano che questo amore sia presto corrisposto con questa speranza ci fermiamo pubblicità torniamo per gli aggiornamenti tra poco sono le 14 passate da pochi secondi non ci sono aggiornamenti vi ricordo tutto quello che potete fare per informarvi con il nostro sito internet aggiornato 24 ore su 24 e poi la prossima edizione del telegiornale come sempre alle 20 grazie buona domenica